Buonasera a tutti, per la gioia di molti e magari deludendo qualche iscritto ho deciso anche questa sera di pubblicare la versione estesa della nostra analisi del mercato azionario italiano. Perché oggi è stata una giornata molto importante dal punto di vista tecnico ed era giusto verificare gli sviluppi grafici dei principali titoli quotati per capire se sarebbe stato il caso di uscire da determinate posizioni perché probabilmente qualche stop profit sarebbe stato necessario applicarlo. In questo modo vediamo anche che cosa poter fare per domani perché ovviamente essendo venerdì c'è la chiusura settimanale, oltretutto domani è anche scadenza tecnica, è scadenza tecnica mensile, non trimestrale come quella importantissima di dicembre, perché ovviamente è quella più importante in assoluto perché sarà il venerdì 16 dicembre. Però mi raccomando manteniamo la concentrazione perché il mercato è in una fase molto delicata. Per chi oggi mi ha seguito in diretta su Class NBC non sarà una novità, però confermo il sabato 26 la seconda live, che poi è un webinar che in realtà si trasforma quasi in un podcast, ma mi piacerebbe replicare quello di sabato scorso perché per me è venuto molto bene. Il tema, l'ho spoilerato in diretta, sarà come analizzare un bilancio di una società quotata, però poi ovviamente lascerò molto spazio a voi, alle domande che mi vorrete fare e cercheremo di magari trattare proprio il mercato azionario a 360 gradi. Quindi chi non si fosse ancora iscritto al canale lo faccia perché in questo modo attivando la campanella riceverà le notifiche per gli orari a cui verrà effettuato questo webinar sabato 26 novembre. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito col Fuzzi Mib Futures. Perché oggi voglio fare di nuovo la versione estesa? Perché in Tradei abbiamo perso il minimo della congestione di breve che ormai ci accompagnava da 5 sedute. Il minimo odierno è stato abbastanza profondo, 24,060. Allo stesso tempo però se da sfera prendiamo il grafico tick by tick del FIB vedremo che in realtà stiamo recuperando e non siamo poi così lontani dal poter chiudere addirittura sopra il minimo della congestione. E mi riferisco a 24,275. In questo momento siamo per esempio a 24,270. Ovviamente provo magari ad allargarvelo anche di più così dovreste vederlo ancora meglio. Vedete che stiamo recuperando dai minimi che sono stati toccati attorno alle 15. I ghiati macroamericani non hanno fatto chissà che cosa perché non sono stati troppo distanti da quali erano le attese. Quindi è ancora una partita tutta da giocare. Ovviamente l'aspetto più importante è che non abbiamo perso questa trendline rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre. E rimane valido questo livello anche per domani e come vi spiegavo in apertura è molto importante perché si chiude la settimana e ovviamente c'è poi anche la candela settimanale. Quindi oggi era giusto probabilmente chiudere qualche singola posizione ma io per esempio ho preferito aspettare per certi titoli che detengono il mio portafoglio di medio e lungo periodo la seduta di domani perché vedo qualche possibilità di chiusura sopra i livelli statici più importanti per non applicare lo stop loss per alcuni fortunatamente pochi o per altri lo stop profit. Però iniziamo subito dal Futsimib e notiamo come per esempio oggi mi è stata chiesta in trasmissione A2A continua a essere respinta da area 1,30. In realtà io a livello intraday penso di avervelo già detto ve lo voglio ribadire lavoro molto in controtendenza per cui shorto i titoli forti però ripeto a livello intraday e lungo i titoli deboli. Però attenzione perché qui lo short partirebbe effettivamente solo a chiusura gap nel senso che c'è questo 1,2355 massimo del 10 di novembre se venisse chiuso e ci fosse un'ulteriore accelerazione a ribasso sarebbe quello il momento dove prendere una posizione short sul titolo. Fatto adesso soprattutto in un'ottica multiday diventa molto pericoloso perché c'è questo attrattore comunque della media mobile a 200 che è 1,3431 e poi ovviamente c'è il massimo del 13 di giugno che è 1,3735. Quindi io probabilmente non andrò short sul titolo ma proverò domani ad andare long a chiusura gap con il primo dei miei ordini multipli. Su A2A ne metterò comunque almeno due per un importo minimo di direi 10.000 pezzi. Poi abbiamo Amplifon, prosegue la discesa, vedete oggi se non ci si è chiusi ieri perché il titolo ha più o meno chiuso in realtà poco sotto la media mobile a 100 che era 27,67 e ieri ha fatto chiusura a 27,57. Oggi nuovi minimi e ovvio di breve ovviamente, di brevissimo mi devo chiudere e aspettare il titolo almeno sulla media mobile a 50 che è 25,90 o su questo minimo che è poco sotto che è 25,86 per cui secondo me adesso era più corretto essere fuori dal titolo. Atlantia hanno riaperto i termini però ovviamente non cambia molto. Alzimuth continua a essere lì in laterale sui massimi, non riesce a superare 20,22. Ho già detto anche oggi, anche questo titolo mi è stato chiesto in trasmissione che al momento lo stop me lo devo mettere abbastanza largo perché c'è un micro gap qui da chiudere a 19,22. Per cui uscirei dal titolo solo sotto 19,22. Se domani o nelle prossime sedute mi va sopra 20,22 che è il massimo dell'11 di novembre, a quel punto alzo il mio livello di stop per cui chiuderò la posizione solo se dovesse perdere 20,22. Anche Banca Generali è lì in laterale sui massimi, io non ho ancora chiuso la mia posizione di medio-lungo periodo, lo farò sotto questo minimo di 32,68 minimo di martedì e tornerò a guardare il titolo non prima di 31,56. Vedete anche qua già la divergenza ribassista sotto sul RSI e non sono ovviamente segnali mai molto belli questi qui perché anticipano un po' una possibile fase di correzione del titolo. Banca Mediolanum stessa situazione, qui deve rompere il livello di 8,13 per chi fosse in posizione, io non è un titolo che detengo, però sotto il minimo del 14 di novembre 7,894 chiuderei la posizione e qui sarei molto prudente per un reingresso, l'ideale sarebbe un ritorno a 7,466. Bami sempre ben difesa, però non riesce a rompere i massimi di periodo che sono stati il 10 di novembre a 3,29, al momento continua a mettere uno stop abbastanza largo, il famoso 3,025, però anche per Bami io longo solo se torna a 2,848. Potrei valutare eventualmente una tenuta della media mobile a 50 che è 2,89,2. Per quanto riguarda BPE stessa situazione, nel senso che mantengo ancora il titolo anche se è un po' più debole rispetto a Bami, oggi fa una doji molto nitida, qui l'uscita è 1,81,55. L'ingresso, io avevo detto area 1,75 che poteva interessarmi, direi che visto che il mercato mi fa un po' paura per il brevissimo, cioè io ipotizzo che sia più facile una correzione nelle prossime 5,10 sedute e poi una ripresa eventualmente nel mese di dicembre per chiudere l'anno in maniera dignitosa, quindi a questo punto per Bami direi 1,69,1 come livello ideale di reingresso. Non bene neanche Buzzi, ovviamente se ieri non mi fossi chiuso su Buzzi e oggi non ho più scuse perché vedete come perde in maniera nitida la rialzista, per domani il target potrebbe essere tranquillamente la media mobile a 200 che è 17,017, ovviamente io vi do il valore preciso, poi dovete sempre raggiungere in termini di TIC perché Buzzi scambia 17,005, 17,01, 17,015, quindi non corrisponde quasi mai il livello della media mobile al TIC che scambia il titolo e io non aspetterei neanche la media mobile a 200 ma addirittura 16,83,5 per vedere se posso acquistare. L'ideale rimane per me la media mobile a 100 che è 16,51. Campari continua a darmi delle belle soddisfazioni, addirittura oggi ha rotto al rialzo la congestione delle ultime quattro sedute, ha fatto un massimo intraday a 10,06 perché è opportuno rivedere tutto il listino, perché per chi avesse Campari oggi cambia la gestione dello stop profit, non dobbiamo più chiuderci sotto 9,62 ma dobbiamo alzare lo stop non tanto a 9,91 che sarebbe comunque uno stop profit corretto, ma io lo posizionerò sotto la media mobile a 200 che è poca i TIC sotto, che è 9,87, quindi significa che era giusto mantenere il titolo, se domani dovesse scendere sotto 9,87 io chiuderò in stop profit, considerate che però deve essere questo livello perso a fine giornata. Le dinamiche intraday io non le seguo più di tanto, nel senso che le verifico perché tengo monitorato il titolo, però la decisione di mantenere un titolo o eventualmente uscire dallo stesso la prendo solo in corrispondenza della fine giornata, per non incorrere in troppi falsi segnali. Allora, CNH è molto al limite, io avevo detto 14,44 per un'uscita, oggi ha fatto 14,41 ma ha chiuso a 14,45, diciamo che domani se perde i minimi di oggi dobbiamo chiuderci, è ovvio che potrebbe già essere interessante questo 13,95 e mezzo, però potrebbe anche non bastare per un nuovo ingresso, potrebbe anche tornare sul massimo di questa shooting star che è 13,61. L'importante è gestire al meglio lo stop se il titolo dovesse scendere anche domani. Diasori vi avevo detto che la vedevo in correzione, oggi è arrivata quasi a testare la media mobile a 100, 129,95, ha fatto un minimo a 130,4, per le prossime sedute me la aspetto almeno sul test della media mobile a 200 che è 127,63 e poi eventualmente sulla media mobile a 50 che è 125,707. Poi Enel oggi dà un primo brutto segnale, vi avevo detto che era un po' tirata e sinceramente domani dobbiamo monitorare assolutamente il minimo di oggi che è stato a 4,977 perché il minimo dell'11 di novembre è stato a 4,979, sotto quest'area uscirei dal titolo, primo target 4,8205 e poi la media mobile a 100 4,75,2. Eni vi avevo già detto ieri e l'ho ribadito oggi in trasmissione che sul breve è assolutamente un titolo, tiriamola magari di qui che si vede ancora meglio. Vedete come ieri potevo ancora un attimo pensare che il titolo provasse a mettersi in laterale con una base poco sopra area 14,30. Oggi mi dà un segnale piuttosto deciso di uscita, primo target per le prossime sedute, il minimo del 10 di novembre 13,818, poi 13,688. Mi sembra che un iscritto al canale lo avesse sottolineato che rimane anche il micro gap da chiudere a 13,376. Qui non possiamo decidere a priori dove entrare su Eni nelle prossime sedute perché lo faremo solo quando il titolo avrà finalmente costruito una sua base. Race fa una candela sostanzialmente inside rispetto a ieri, a maggior ragione 204,1 deve essere la nostra uscita, il minimo di oggi e di ieri. Il titolo può arrivare fino a 201,200,9 e poi vi ricordo il micro gap da chiudere ancora aperto a 196,7 tenendo conto che la media mobile a 100 è 197,2 e quella a 50 è 196,4. Fineco continua a fare nuovi massimi, ne ha fatto uno anche oggi, ma non riesce ad accelerare perché la seduta di oggi è una sorta di doji simile spinning top, per cui è vero che il trend è ancora abbastanza forte e nelle prossime sedute potrebbe arrivare massimo fino alla chiusura del gap lasciato aperto il 23 febbraio a 15,44 e mezzo, però sempre pronti a uscire dal titolo direi che lo stop al momento lo posizionerei sotto il minimo del 14 di novembre 14,24 e mezzo. Generali, io ho un altro titolo che detengo ancora nel mio portafoglio di medio e lungo periodo, mi do uno stop sotto il minimo del 14 di novembre 16,84 e mezzo e torno a guardare il titolo non prima da ritestare la media mobile a 200 che è 16,38, poi se non basta probabilmente fino in area 16 potrebbe anche tornare. Era affatto meglio di Enel come abbiamo visto, c'era questa notizia di un ulteriore sborso di 5 miliardi, ve l'ho parlato nella pillola di preapertura, magari non è piaciuta quella, lo stop è 2,545 dopo di che c'è subito la media mobile a 100 a 2,51 e poi 2,44 e 1. Non credo che avrà la forza di rompere 2,65 e 6, lo dovesse fare però potrebbe arrivare almeno fino a 2,719, però mi sembra che anche era in quest'area stia provando a distribuire. Interpump vi avevo già detto che mi aspettavo una correzione, non è stata così violenta per carità perché oggi fa poi una sorta di spinning top, già questa candela del 14 di novembre doveva lasciarci aperto qualche dubbio, credo che il titolo possa tornare nelle prossime sedute tra 41,58 e 41,28, vi ho già detto come io tornerò compratore sul titolo solo a ritesta della media mobile a 200, quindi poco sotto area 40, 39,94. Oggi ho temuto di dover applicare lo stop profit su Intesa, In realtà poi ha fatto un hanging man minimo a 2,1465, chiusura a 2,178. Il mio stop ve lo ricordo sempre è sotto 2,1235 e se dovesse perdere questo livello non ho intenzione di riprovare il titolo prima di 1,96 e 4, 1,97, considerato che c'è la media mobile a 200 a 1,94 e 4. In with, anche questo è un titolo che io vedo in una fase di correzione, almeno per il breve periodo, il target è almeno area 9,10, considerate che a 9,058 c'è anche la media mobile a 50, probabilmente se non ci siamo ancora chiusi domani sotto il minimo di oggi 9,404 bisogna abbandonare il titolo. Italgas continua a essere respinta dalla media mobile a 100, anche oggi l'ha superata intraday, avendo fatto un massimo a 5,555, la media mobile a 200 e 5,53,2. Direi che probabilmente già sotto il minimo di oggi 5,38 uscirei dal titolo, primo target area 5,30, poi media mobile a 100, 5,24 e mezzo e infine questo livello che è 5,20. Poi se il titolo decide di correggere può anche arrivare fino in area 5,10, come vi dico fino alla noia lo decide il mercato dove rientrare, quando il titolo si mette in laterale per più sedute e ci dà qualche parvenza di possibile ripartenza noi entriamo con uno stop stretto. Iveco oggi io avessi avuto il titolo in portafoglio mi sarei chiuso perché ha perso anche il minimo di ieri che è stato di 6,09, oggi ha fatto un minimo intraday a 6,046 e poi ha chiuso a 6,083. Target almeno 5,908 e poi media mobile a 200 che è qui in area 5,80. Poi Leonardo seduta molto negativa perché il titolo è arrivato addirittura molto vicino alla sospensione, perché ha fatto un minimo a 7,33 e la sospensione è a 7,31. Io per domani aspetterò il titolo non prima di 7,31 ma vi dico di più che probabilmente il primo ordine lo metto ancora più sotto, poi mi calcolo bene anche le sospensioni, forse provo da 7,11 in giù. La mia size su Leonardo domani sarà tra i 2.000 e i 3.000 pezzi. Mediobanca, secondo me anche questo titolo sta lateralizzando sui massimi, disegnando una fase di distribuzione, sotto il minimo di oggi 9,944 uscirei dallo stesso e non lo guarderei prima di 9,564, meglio ancora forse 9,40. Moncler ha chiuso il gap che aveva lasciato aperto a 49,66, era questo il gap, la chiusura è stata poi a 49,88. Devo essere onesto con voi, non sono entrato perché è vero che il singolo titolo ha un andamento che può anche discostare da quello del mercato di riferimento, però per come si stava impostando il mercato temevo un'accelerazione a ribasso, per cui io continuo a essere compratore solo su estrema debolezza tra 47 e la media mobile 200 che è più o meno 46,28. Chi avesse comprato a chiusura gap comunque ci sta, l'importante è che sotto il minimo di oggi 49,55 si proceda a uno stop loss. Continua a essere abbastanza debole Nexi che fa un nuovo minimo di breve periodo ad 8,47 ma fortunatamente chiude a 8,606 sopra la media mobile a 100, 8,58,3. Io per domani però aspetterò il titolo comunque su questo livello che è 8,22. Vedo ancora debolezza sul titolo. Anche Pirelli io probabilmente mi sarei stoppato oggi, poi se uno non l'ha fatto 4,053 minimo di oggi è lo stop quasi obbligato per non vendere il titolo, prima 3,939 minimo del 7 di novembre e poi sulla media mobile a 100, 3,864. Consideriamo che Pirelli ha anche questo gap post dati da chiudere a 3,738 sul massimo del 3 di novembre. Poste è un altro titolo che ho nel mio portafoglio di medio e lungo periodo, mi ha mancato lo stop di poco perché l'avrei posizionato sotto 9,50, sotto 9,50 ha come target diretto la chiusura del gap lasciato aperto a 9,37,2 dopodiché c'è un ritorno almeno sulla media mobile a 200 che è 9,097. Prismian non ha ancora dato un segnale definitivo, io comunque vedo anche Prismian in distribuzione, primo target la media mobile a 50, 31,775 poi il minimo del 3 di novembre a 31,39 e quello del 21 di ottobre a 31,31. Ovviamente essendo un titolo che è salito veramente tanto, io vi do questi livelli perché sono livelli importanti ma non posso escludere che vada magari anche a testare la media mobile a 100 che è 30,73. Ricordati, oggi non va sul target che mi ero prefissato, ovvero 38,58, però io non la proverò prima di quel livello considerato che poi a 38,04 ha anche la media mobile a 50. Saipem, ecco su Saipem dobbiamo parlare perché oggi è andata a target, dobbiamo parlare in maniera un po' più approfondita perché ha chiuso il gap e è lasciato aperto a 1,14, ha fatto un massimo a 1,157, però poi dopo ha fatto addirittura tre sospensioni per eccesso di ribasso. Troverete domani un bellissimo articolo su MF che cura il mio amico Emerick Denarda perché ci confrontiamo ormai ogni sera dopo la chiusura di mercato per segnalare proprio ai lettori queste dinamiche così particolari. Fa addirittura un minimo intraday a 1,018, chiudendo poi a 1,0325. Vedete anche i volumi molto elevati, oggi probabilmente avendo fatto un engulfing birish ha dato un segnale di fine corsa e probabilmente potrebbe andare a 0,9706, 0,95 perché sembra un po' arrivato di breve. Snam Rete Gas non ha dato alcun segnale evidente, è vero che sta rischiando di perdere questa rialzista però diciamo che 4,663 sarebbe il mio prezzo d'uscita. Di certo non tornerei compratore sul titolo prima di quest'area che è poco sotto 4,50 considerato che la media mobile a 50 è 4,472. Stellantis oggi avessi avuto il titolo in portafoglio sarei uscito, torno a vederlo nelle prossime sedute se mi va a ritestare la media mobile a 213,66 poi poco sotto c'è il minimo del 10 di novembre 13,608. STM devo dire che è vero che è andata quasi millimetricamente sul primo target che avevo ipotizzato 35,635, ha fatto 35,685 però non avrei creduto in un hanging man così forte perché a quel punto il titolo sarebbe potuto anche andare a ritestare la media mobile a 200,35,22. A questo punto significa che questo livello poco sotto 35,70 è un supporto statico importante per le prossime sedute. Non credo che il titolo abbia la forza di rompere i massimi di breve periodo toccati ieri a 38,075, probabilmente potrebbe muoversi in trading range tra questo minimo 35,635 e il massimo di 38,075. Telecom non mi è scattato per un pelo lo stop, ve l'ho ricordato anche questa mattina 0,2222 sarebbe uno stop profit, non sono bastate le dichiarazioni di Labriola che ormai parla tutti i giorni che ha detto facciano un'offerta seria e vedremo se prenderla in considerazione. Vedete che però il titolo si sta indebolendo tant'è che sta perdendo la trendline rialzista, ha perso la trendline rialzista a partito dai minimi del 13 di ottobre, per cui io domani se mi perde il livello chiuderò il titolo senza alcun problema. Tenares vi avevo detto che era un titolo che sul breve mi sembrava un po' arrivato, diciamo che per il momento ieri era difficile decidere di chiudersi, ma la Shooting Star poteva essere già un primo indicatore. Il problema adesso è che può arrivare almeno a 15,825 e poi a 15,61 e mezzo, per cui oggi reputo che sarebbe stato corretto uscire dal titolo. Terna come Italgas, scusate, perché anche Italgas sta lottando sulla media mobile a 200 e non riesce a superarla. La media mobile a 200 di Terna è 7,266, qui il livello che non deve perdere dove io uscirei dal titolo è 6,98, primo target è 6,81 minimo del 9 di novembre e poi probabilmente un livello compreso tra il minimo dell'8 di novembre 6,724 e la media mobile a 50, 6,696. Unicredit continua a lateralizzare lì sui massimi. Allora vi dico molto onestamente, non è un'operatività che faccio volentieri lo short overnight, però forse Unicredit è un titolo che meriterebbe addirittura uno short con stop strettissimo sopra 3,168 perché a me qua sembra palese distribuzione. Chi fosse però in posizione da livelli molto favorevoli quindi usi sempre il 12,496 per applicare uno stop profit. Il primo livello che comincerei a guardare è 11,922, poi probabilmente aspetterei il titolo fino al minimo del 26 di ottobre che è 11,428. Unipol anche come Unicredit non ho la stessa convinzione del movimento che ho su Unicredit, però è in laterale qui sui massimi, lo stop obbligato è sotto area 4,70, probabilmente continuerà a muoversi in trading range, non so per quante sedute, però se dovesse accelerare a ribasso potrebbe andare subito a ritestare la media mobile a 200 che è 4,52 e mezzo. Adesso come al solito aggiungo qualche titolo del MTA perché ci sono alcune situazioni interessanti. Parto con GWS perché l'abbiamo vista più volte, oggi purtroppo è tornata a scendere a fare una marbozzo black perfetta, senza ombre, apertura 4,056, chiusura 3,61,2. Se io avessi provato il rimbalzo dai minimi, cosa che non ho fatto, oggi sarei uscito. Non farò più questo titolo perché la società per me era doveroso che dovesse spiegare chi avesse ancora voglia di farlo, aspetti almeno area 3,30. Poi ho fatto una tradattina veloce, io intradei su Luve, sono stato fortunato perché ha rimbalzato dal minimo di giornata circa 50 centesimi e sono riuscito a uscire. Mi raccomando sotto 22,6 bisogna assolutamente abbandonare il titolo e tornare a guardarlo qui tra la media mobile a 100 e la media mobile a 50, 21,46, 21,42. Poi sicuramente metterei anche Saras che oggi corregge molto. Allora, probabilmente la seduta odierna era una seduta da anche uscire dal titolo perché è una brutta shooting star. Magari diamoci il minimo di oggi, 1,24 e 1,65 se non l'abbiamo fatto e per tornare a guardare il titolo direi sul riteste la media mobile a 100 che è 1,145. Veniamo invece, seppur con pochi volumi, i titoli che hanno fatto bene oggi, i grandi viaggi, vedete, esce dalla congestione che accompagnava il titolo ormai da inizio ottobre, per domani potrebbe andare a testare la media mobile a 100, 0,84,3 e poi eventualmente portarsi fino in area compresa tra 0,87,8 e 0,90. Io domani me la metterò a monitor, però è un titolo che scambia abbastanza poco per cui mi raccomando su queste situazioni in massima prudenza. Ha fatto un bel movimento anche Gefran perché Intraday aveva corretto fino a testare la media mobile a 108,807 e poi addirittura chiuso a 9,21 sopra la media mobile a 200. Per cui per domani credo che possa andare a chiudere almeno questo gap a 9,41 che è sul minimo del 26 di agosto e poi proseguire fino a poco sopra area 9,60 che sono questi livelli tecnici qui. Poi vediamo ancora qualcosa di interessante, direi che mi piace molto il movimento che ha fatto Elen perché vedete che ha recuperato dopo l'hammer di ieri, io l'aspettavo più in basso, però ha rimbalzato in maniera millimetrica quasi dalle medie a 100, 12,99 e a 200, 12,92. Seguiamo il titolo, se comincia a muoversi in trading range tra area 13 e area 14, si potrebbe fare un po' di sano trading intraday. L'ultimo titolo che voglio mostrarvi perché io l'ho lavorato, combinazione, ha parlato anche Emerick in trasmissione, è ILPRA. Addirittura questa mattina ILPRA è stata molto particolare perché ve la faccio vedere qua un attimo su Sfera perché così rende meglio il coltick by tick. Vedete, praticamente è salita subito dopo l'apertura è arrivato di tour a 5 denaro, poi ha fatto un minimo dove l'ho presa io a 4,67, ha ricomprato 4,89 e poi è andata a fare un minimo intraday a 4,58 ed è andata a chiudere però a 4,82. Quindi è un titolo che si sta muovendo molto bene, è vero che è una small cap, però ha fatto 42 mila pezzi. Quindi io vorrei che allargaste un po' anche l'orizzonte dei titoli che seguite. Per questa sera abbiamo concluso, domani vi anticipo già che farò la pillola di preapertura, poi ho un impegno a Milano per cena per cui non riuscirò a fare la solita analisi del mercato azionario, la caricherò o sabato nel tardo pomeriggio o domenica mattina. Dovete scusarmi ma avevo questo impegno improrogabile. Auguro una buona serata a tutti e ci sentiamo domattina per la pillola di preapertura.